Siamo qui con Kian e Madi, un altro fantastico giro lanciato, siamo qui con Kian e Madi, io e Steven Merck, ovviamente, un altro fantastico racconto. Stai cercando di battere il record di questa racconto? Cercherai di battere il record della pista correndo così veloce? Sì, spero, credo che domani dovrebbe essere un buon giorno, non ci sono molte racconti prima, quindi dovrebbe essere bello e fresco. Sì, ovviamente cercherà di battere, ovviamente siamo ancora all'inizio della gara, quindi sta trovando la miglior condizione. Steven, una fantastica racconto per la vostra ragazza? Sì, stavamo regolati questa volta, Kian l'ha messo in e ero un po' sbagliato, perché vedo che Volekakis è un buon sprinter, quindi c'era un po' vicino. Sì, Kian ha fatto un eccellente racconto e ho riuscito a finire, quindi sono molto piaciuto. Ovviamente è molto contento di aver lanciato il compagno in questa gara, si sono alternati ovviamente nelle varie gare, sono in grande forma, quindi enjoy your 86 year in Fiorentona. Grazie, grazie mille. Thank you very much. Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille... Grazie a tutti